Brawler negli anime Ebbene si ragazzi oggi vedremo come sarebbero i brawler se fossero all'interno di un anime E voi raga vi piacciono gli anime? E se si qual è il vostro preferito scrivetelo qui sotto nei commenti Di brawler ce ne sono davvero davvero tanti ma io inizierei con Ems Vediamo come sarebbe Ems fan sfegatata se fosse all'interno di un anime Eccola qui ragazzi il primo brawler che vediamo in versione anime è appunto Ems Ems sarebbe la scolaretta tipica di quegli anime un po' per ragazzine che si innamorano molto facilmente Ma che in realtà magari è un demone nascosto che di notte fa qualcosa non lo so Magari ragazzi scrivetene nei commenti quali poteri potrebbe avere Ems se fosse in un anime Cioè in realtà ha il potere della lacca esplosiva che crea danno però vabbè scrivetene altri Comunque è molto molto figa perché ha uno stile totalmente differente e anche molto più carino se devo dire la mia Secondo brawler ragazzi abbiamo un brawler che è già lui molto molto in stile anime Ossia è un genio malvagio cioè lui ha questo rosso molto vivo Ha queste caratteristiche molto mistiche appunto da un genio Quindi sarebbe perfetto per un anime ma vediamo come sarebbe Anzi ragazzi prima di vedere come sarebbe Eugenio vi ricordo di utilizzare il codice Moshixone se giocate a Fortnite Rocket League come codice creatore Non funziona su Brawl Stars ma sui giochi Epic Games sì quindi mi raccomando Eccolo qui ragazzi guardate quanto sarebbe figo con le mani in fiamme Avrebbe il potere delle fiamme blu ragazzi E agli occhi illuminati super cattivo ma secondo voi sarebbe un cattivo oppure un buono Sì è vero che si chiama Eugenio malvagio ma magari potrebbe essere uno di quei geni malvagi Nato che ne so da qualche profezia malvagia però con poteri buoni Non lo so ragazzi molto molto figo passiamo al prossimo La prossima è una brawler femminile che già di per sé sembra vivere in un anime Sto parlando di Colette Colette potrebbe avere secondo me il potere del libro Cioè magari tutto ciò che disegna sul libro potrebbe rendersi realtà O comunque tipo un libro molto particolare parlo del Death Note Fatemi sapere se conoscete che cos'è il Death Note qui sotto nei commenti Magari ragazzi quello che scrive sul libro provoca degli effetti nella realtà non si sa Ed eccola qui in versione anime con il libro pieno di magia ragazzi Aperto che appunto levita sopra la sua mano quindi magari anche altri poteri oltre quello del libro Con una penna molto molto particolare che le permette di scrivere sul libro In realtà nel gioco di Brawl Stars sembra un po' più pazza rispetto a come l'hanno disegnata nell'anime Anzi vi piacerebbe un anime di Brawl Stars Ve lo immaginate? Cioè non come le animazioni proprio un anime vero e proprio Sarebbe fighissimo soprattutto con questi disegni e queste caratteristiche che vi sto dicendo Quindi in pratica Colette scrive sul suo libro e sbam succede qualcosa al mondo reale Allora adesso ragazzi vi mostro uno dei brawler più amati di Brawl Stars Parlo del Corvo Un brawler super faigo ragazzi Anzi qual è il vostro brawler preferito? Commentate scrivendolo qui sotto Ragazzi il mio lo sapete ve l'ho ripetuto centomila volte È corvettino cioè perché ha troppo troppo stile Ma vediamolo in versione anime E questo è davvero iper iper figo Guardate qui È uno di quegli anime magari un po' più vecchi e non super moderni E anche diciamo disegnato in stile più manga che anime Ma è davvero figo Forse un po' la Jojo è disegnato Non lo so mi ricorda Jojo È davvero super super figo Super cattivo carismatico Secondo me però lui dovrebbe essere uno buono non uno cattivo Invece questo l'ho disegnato con un'area minacciosa E con i tre pugnali avvelenati che sono le sue penne Ha un po' la Wolverine Ok Ragazzi scala Bea in versione anime C'è una super cattiva di quelle finali proprio che vi fanno Vi stravolgono tutto Guardiamola sim E guardate quanto sarebbe figa ragazzi Questo insettone gigantone Che praticamente con un'artigliata Sbam Vi killa instant Con le super ali che magari ha una trasformazione Che tipo da Bea Poi si arrabbia tantissimo Sblocca un potere nell'anime E diventa appunto Scarabea Sarebbe super super figa come cosa Come trasformazione Voi ragazzi vi devo mostrare assolutamente Colt sfidante in versione anime Cioè lui dovrebbe essere uno buono Però è un po' particolare quello che vi sto per mostrare Perché guardate lo hanno disegnato Tipo tutto quanto legato E per motivi che non posso spiegarvi Io c'ho realmente una corda blu qui con me Quindi sì ragazzi sono stato io alle gare Colt Sbam Non ve lo aspettavate E comunque sarebbe il protagonista di un anime Più 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 Lo dico sfigato come hai visto Ha una faccia proprio proprio da Da persona incapace Secondo me Nita Shiba è esattamente la prova di Brawl Stars Di avvicinarsi un po' al mando degli anime Perché guardate in versione anime Quanto è carina ragazzi Cioè non so perché il suo cagnolone gigante diventa molto piccolo Però magari è uno dei poteri Ossia diventa grande quando si arrabbia Con la gonnellina If you know what I mean Signori con la manina Tutta quanta così un po' da gattina Le tipiche degli anime Praticamente quindi questa è una di quelle che più ci sta in un anime Insieme tipo a Scarabea Andiamo avanti con Cupid Piper Ragazzi Sull'altalena ve la mostro così Perché secondo me non è manco troppo anime Cioè sembra uno di quei cartoni americani Quindi vado avanti perché personalmente non mi piace E non la vedo proprio come uno stile anime Stessa cosa per Bibi Che in realtà è in versione natalizia Ok però ve la mostro così veloce Però non ci perdo manco tempo perché Che cacchio di anime sarebbe Prossimo brawler in versione anime Ma fatto come si deve secondo me con super poteri E una storia in background E appunto la nostra Jackie ragazzi Che diventa una signora Sembra non so se chi lo conosce L'anime Fire Force Ragazzi bellissimo ve lo consiglio In cui appunto tipo lei potrebbe essere Un'ageniera o un'ingegniera Qualcuna che costruisce insomma E crea e portarmi Magari sfonda tutto con la sua trivella Molto molto figa E molto molto caratterizzante appunto Da quell'aspetto tutto quanto un po' arrabbiato Da Ehi tu che cosa vuoi Dascia e corre come un malato Mortis non ha paura di nulla ragazzi Anche la sua versione anime E' super mega figa Guardate c'è E' un anime pazzesco Io lo vorrei vedere Cioè sarebbe questa specie di flash dei poveri In cui in pratica abbiamo Mortis Che tipo di giorno fa il tombarolo Di notte sconfigge il male E recupera le gemme Oppure potrebbe essere un ladro Tipo sembra un po' Lupin ragazzi Se ci pensate Sembra Lupin anche con tutte le gemme Che stanno dietro Molto molto figo come disegno In versione anime E' ancora più forte della realtà Top E che dire di Ambra ragazzi Ambra regina delle fiamme e del fuoco Ci starebbe benissimo in un anime Sembra un anime un po' Maya Tipo c'è di quel Di quel genere Un po' antico Infatti c'è comunque lei Ha delle origini Maya Secondo me E appunto gioca con il fuoco E avrebbe il potere del fuoco Immaginatevi quanti anime Stanno su tutto il concetto Del fuoco Sul potere del fuoco Quindi top Questo ci sta tantissimo E direttamente da Tokyo Ghoul Signori Abbiamo Edgar Edgar Super Anime ragazzi Cioè io me l'immagino Cioè con i poteri Di Edgar In un anime Sarebbero pazzeschi Davvero Cioè potrebbe fare 18 miliardi di cose E pensandoci Qualcuno lo deve fare ragazzi Fate un vero anime Tu brawl stars Sarebbe una figata Pazzesca Perché ci sono alcuni brawler Che hanno poteri Assurdissimi Davvero E questo qui ragazzi Forse è uno dei migliori Disegni In stile anime Che ho visto finora Bombardino Versione casalinga Ragazzi Me lo immagino In un anime Di quelli A parodia Praticamente Cioè tipo Lui sarebbe la figura Del team Quella divertente Che si traveste Che fa tutte le cose Quindi lui ce lo vedo Anche lui tantissimo Ma di cosa Stiamo parlando Ragazzi Cioè Sembra Il generale Che è il potere Delle fiamme Di Full metal alchemist Ragazzi Cioè Con quei guantini Con quello sguardo Non so perché L'ho messo le fiamme Lì Ah no In effetti Lui usa i fuochi di artificio Non le fiamme Però più o meno Cioè Davvero In versione umana E ha un carisma Pazzesco Raga E davvero Davvero Molto Molto figo Super cattivo Per 8 bit virus Ragazzi Cioè Cioè Anche qui Non ho parole Sarebbe davvero Un mega cattivo Però non so se Un anime con questo Robottone in stile Virus Mi piacerebbe Tara invece Io personalmente L'avrei fatta Molto 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 Più tenebrosa E cattiva Per un anime Però ci potrebbe Stare Kakegurui Se vogliamo Pensare A qualcosa In stile Carte Però Non è tanto Per quello Io lo farei più Sul Sul mistico Maxine Con questa versione anime Me l'immagino In uno Di quegli anime Sullo sport Sapete No magari Un anime Di Io sono Super veloce Io devo essere Devo vincere Tutto e tutti Ragazzi Però sempre un po' Americanata Non so Questo stile anime Non è che mi attira Tantissimo Diciamo che In questa versione Sembra molto più Un anime Come lo conosciamo Con un po' Di fanservice Se sapete Cosa significa Fanservice Altrimenti Non sto a spiegarvelo Un po' Di waifu Così per condire Tutto il video Il signor leon Non scherza Affatto In versione anime Altra waifu Per la nostra Magica rosa Non so perché Ma mi sembra La coprotagonista Di final fantasy 7 E io finire Con questa Trixie Colette Che proprio Cioè È puro anime Ragazzi Cioè Guardatela Guardatela Cioè io già Me l'immagino Come cattiva Innamorata Del protagonista Proprio Cioè È lei Praticamente Tipo Isekai Altro mondo Regia del male Che però tu arrivi là E si innamora di te E si Alla fine Capito Vi ho già fatto La storia Se fate un anime Così Grazie Voglio il copyright Fatevi sapere Qual è stata La versione Anime Che più Vi è piaciuta In assoluto E noi vi riusciremo Magari In un prossimo video Ciao